ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi un'altra ricetta di mia sorella questa volta ci propone dei brownies ci serviranno per prima cosa pesa il burro poi il cioccolato che mette in un pentolino a fonde poi la farina mette il lievito nella farina pesa lo zucchero e il cacao amaro e le aggiunge alla farina mescola il cioccolato in modo che non si brucia e le farine misura il latte e lo mette nella farina ci aggiunge anche il cioccolato mescola benissimo poi imburra la teglia ci aggiunge poi anche un pochettino di farina la cosparge bene poi ci verso dentro l'impasto e lo livella intanto controlla il forno che è già preriscaldato a 180 gradi lì c'era mia nipote che si leccava la frusta lo cuoce per 20 minuti quando si è raffreddato lo taglia a quadrotti si può servire con sparso di zucchero a velo oppure con il gelato noi abbiamo preferito mangiarlo semplice e vi assicuro era buonissimo 1, 2, 3, come on Come on, come on Ha!